Mappa 0-1 di Doom 2 C'è da dire altro? Come si sono resi conto? Come si sono resi conto che io sono qui? Ah, questo come cacchio si è reso conto che io sono lì? Magari non ci muori, vero? Oh, ok Ho solo la pistolina e la motosega, vero? Allora questa sarà più difficile del solito allora Perché se c'ho solo questa come arma Ok Guarda che è lì in P.V.O. No Ho messo due di S.V.I.P. Non caricate i compiti Grazie Non devi Caricate Ecco qua Vabbè là, prendiamola adesso Ah no, è vero Questo non è Doom 2 Ok Premiamo questa e premiamo poi quest'altra Apriamo la porta qui Prendiamo l'armatura Abbiamo già preso un segreto Allora qui È vero che lì lì dentro è morto Ma com'è morto? Com'è morto? No, io adesso lo voglio sapere Vabbè comunque sono saltato qui sopra Vorrebbe essersi aperto anche il lancio a razza E' vero che adesso Sì Eh, mica posso usare il lanciarazzi contro di te, caro Olè E anche la destina è andata Quello era il secondo segreto Quello del lanciarazzi Quello era il terzo Qui c'è il quarto Pino di Non vi preoccupate Lanciarazzi Troverà il suo scopo Ah, non c'è? Peccato Lanciarazzi Ecco qua Fine mappa Lo so, questa è stata parecchio breve Però ragazzi Che volete? Questa è la mappa di Doom 2 Ok Prossima puntata L'ultima delle mappe classiche Mi dispiace se vi siete appassionati tanto a queste mappe Prossiche Se volete giocarle nella versione originale Magari forse Se siete qui E avete giocato solo a questo gioco Comprate anche i precedenti Sono bellissimi Alla prossima